Nella mattinata di ieri, mercoledì 21 ottobre, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, PD è stato coinvolto in un incidente in Viale Boccaccio a Livorno La sua macchina, in cui Gazzetti era alla guida, ha impattato contro lo scooter di un uomo, Roberto Zagni, 73 anni e volontario della Misericordia di Montenero, morto per le lesioni riportate nell'incidente La dinamica dello scontro è ancora sotto indagine da parte della Polizia Municipale Il consigliere regionale Francesco Gazzetti, reduce dallo scioccante incidente in cui ha perso la vita Roberto Zagni, gli ha dedicato parole addolorate sulla sua bacheca Facebook Tamani in un incidente stradale nel quale sono coinvolto ha perso la vita un uomo È accaduto a Livorno. È una giornata tragica e tremenda e non ci sono parole in grado di descriverla Continua dopo le foto. Poi la vicinanza di Gazzetti alle famiglie Ai familiari della persona che ha perso la vita va il mio più profondo e totale cordoglio così come a tutti i suoi conoscenti e amici e all'associazione di volontariato alla quale apparteneva Sono ore durissime e drammatiche e il mio pensiero è rivolto soltanto a loro Roberto Zagni era tanto amato, era diretto alla misericordia di Montenero per ricominciare il proprio turno di volontariato Non è mai arrivato. Toccanti le parole degli altri volontari che ne hanno annunciato la scomparsa È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del confratello Roberto deceduto stamani in incidente stradale mentre si recava a prestare servizio per il suo turno di volontario a Montenero Continua dopo le foto. Roberto, Robertone come lo chiamavano i più giovani, era autista barra soccorritore volontario di livello avanzato ormai da diversi anni e si è fatto subito apprezzare da tutti per la sua disponibilità È entrato in punta di piedi come spesso accade ai nuovi arrivati, pian piano il suo impegno e la sua umanità lo hanno portato ad essere sempre più coinvolto nelle dinamiche della nostra associazione tanto da entrare a far parte del consiglio direttivo Amato dai più giovani, Robertone veniva spesso coinvolto nei turni notturni dedicando sempre più tempo al volontariato In conseguenza delle restrizioni anti-Covid, in occasione delle cerimonie funebre, vi aggiorneremo sullo svolgimento del funerale Ti salutiamo Robertone, che iddio te ne renda merito